Le prime quattro giornate hanno già dato dei primi segnali per quanto riguarda campionato e coppe. Trento e Brescia sono ufficialmente in crisi, tentano di uscire dal momento delicato guardando anche al mercato. Nell'anticipo di sabato l'Aquila prova il colpo ad Avellino sognando il ritorno del playmaker Aaron Kraft, ma in generale la squadra di Buscaglia tra campionato ed Eurok ha ricemolato battute da arresto molto brusche e deve dare presto una sterzata al suo torneo. Stesso discorso per la squadra di Diana che sembrava aver trovato una svolta nella rimonta contro la Stella Rossa, ma le sconfitte in casa con Avellino e la beffa di Ulm hanno nuovamente fatto scendere il morale in casa bresciana con tutta la squadra sotto esame. Con peso serve una vittoria, anche in casa Torino c'è Fermento, torna dopo 27 giorni coach Larry Brown, ma la squadra nonostante la rimonta beffarda con Malaga si interroga sul playmaker Taylor, troppo realizzatore e poco poingard. La partita al momento sembra proibitiva contro Milano, ma il presidente Forni rilancia e vuole provare il colpaccio. Momento difficile anche in casa Reggio Emilia, una sola vittoria, Butterfield fuori 5 settimane e una chimica di squadra che stenta ad arrivare. C'è il cannoniere Ledo, 41 punti con Cantu, ma con 30 tiri. Non sembra essere il miglior viatico per la squadra di Cagnardi. In Emilia arriva la lanciatissima Varese di Attilio Caia che nonostante il primo KO in Coppa in Ungheria viaggia ve le spiegate su una base già consolidata. Affascinanti le sfide tra Venezia e Bologna che ritrova Quelli e tenta riscatto dopo il pesante KO interna con Cremona e la squadra di Raffaele, reduce dal primo stop stagionale, ad opera dal Tenerife in Champions. Anche Brindisi Cantu promette Scintille e Brianzoli sono in grande gas e non hanno le coppe mentre Brindisi prova ad elevare il suo livello e batte in una squadra di categoria al momento superiore. L'anno scorso la vittoria dei Lombardi estromise la Dinamo delle Final Eight di Coppa Italia. Sfida salvezza a Trieste con l'alma che sembra comunque favorita su una pistoia in grande difficoltà e contestata dal pubblico dopo l'ultimo tonfo interno proprio contro Brindisi. Infine il match del giorno, ovvero la sfida tra la Dinamo di Vincenzo Spolito e Lavanoli di Meo Sacchetti e Travis Diner con il coach bianco blu che presenta la partita. Dal punto di vista tattico soprattutto sarà importante la gestione dei ritmi, il controllo dei ritmi della gara e il cercare di aggiustarci alla tipologia di giocatori che ci troveremo di fronte perché una squadra che gioca soprattutto dal punto di vista offensivo situazioni che non sono come quelle del 70-80% del resto del campionato italiano. Cremona ha vinto tre partite su quattro con scalpi importanti tra cui Trento, Avellino e Bologna ma coach Sacchetti parla sempre di punti salvezza. Noi abbiamo fatto il nostro, sappiamo che la strada è ancora lunga ma giochiamo con lo spirito che abbiamo avuto in quasi tutte le partite. Quella è la cosa importante che è quello che ci aiuterà poi ad arrivare al nostro campionato. Questa ci darà l'esatta dimensione della nostra squadra al di là della vittoria e della sconfitta cioè nel senso di riuscire a stare con lo spirito. E' logico che loro giocano per i due punti, però andare a scontrare sulle punti salvezza e ci diranno come ho detto e ripeto, dopo dieci giornate si involucreranno al percorso della squadra. In casa Sassari si guarda comunque con fiducia al momento positivo della squadra. La squadra è in forma, squadra che ha dimostrato anche domenica scorsa di avere potenzialità per giocare un ruolo importante in questo campionato. Siamo a Cremona, è un campo anche antipatico onestamente. Io credo che veniamo però da una buona serie di vittorie che ci stanno dando fiducia. Andiamo a Cremona con un gruppo affiatato, capace di tante buone cose. Io penso che potremmo giocarcela assolutamente anche a Cremona. Un bel duello italiano sarà quello nello spot di numero 4 dove si affronteranno Ricci e Polonara. Cremona con un gruppo affiatato, capace di tante buone cose. Si possono scomodare gli almanacchi per le sfide tra Cremona e Sassari dal tappin di Russell Carter in Lega 2 e le finali promozioni in A1 alla conquista dei playoff del primo anno di A1 di Dinere Compagni e quarti di finale delle finale di Desio che poi sancirono il trionfo della Dinamo senza dimenticare la bomba di cazzolato al forum o gli scontri che hanno animato le ultime stagioni. Buzzer bitter di Holloway e poi Pancotto successivamente esonerato e Cremona retrocessa. Insomma ce n'è per tutti i gusti una cosa certa, domenica al Palaradi non sarà una sfida come le altre. Quando un prestito sa fare tutto, è un prestito jolly! Prestiti personali, 15.000 euro in 72 mesi, TAIG 6,29% Banco di Sardegna, gruppo B. Grazie a tutti.